In borsa affari puntati sul titolo Mediaset che apre la giornata in fortissimo rialzo, salvo poi stabilizzarsi su un andamento più contenuto. Ieri è emerso che il gruppo Vivendi, guidato da Vincent Bollorè, è salito al 25,75% del capitale delle divisioni di Cologno, con diritti di voto che arrivano al 26,77%, ma la famiglia Berlusconi spiega che non intende cedere. Io, mio padre e la mia famiglia, assicurato ieri sera alla D di Mediaset, non arretriamo di un passo, noi siamo qui e qui rimaniamo. No, io non mi sono mai occupato di queste cose e lascio Mediaset ai miei figli che sono ben capaci di tutelare l'italianità di Mediaset.